Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Infi i pilli nella carreggiata verso Firenze, coda tratti per traffico tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada all'altezza di Vicarello, nei due sensi di marcia e tra Montelupo e Ginestra, verso il capoluogo. Per le statali ricordiamo le chiusure per cantieri sulla statale 67 all'altezza di Compiobbi, nel comune di Fiesole. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che la circolazione è interrotta all'altezza di Firenze-Castello, sulla linea Firenze-Bologna, alta velocità, per la presenza di persone estranei lungo la linea ferroviaria. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto da Agnese Fedeli, un buon proseguimento d'ascolto. Grazie a tutti.